Eccoci qui con Christopher Lucchesi, pilota dell'Abat 124 Rally della Berlini. Sì, esatto. Allora, come ti sei trovato? Le prime prove sono state un po' difficili, essendo tutte umide, con fondi asfaltati difficilissimi. Poi dopo, andando là nella gara, abbiamo sempre preso più confidenza con l'asfalto umido della Sicilia e ci sta andando sempre meglio. In classifica generale si è piazzato abbastanza bene. Sì, siamo soddisfatti, visto che si sta rimontando piano piano, dovuto al problema avuto sulla terza prova, mi sembra che ci sono rimasti i freni bloccati, perciò si sta recuperando, dai. Bene. Farai tutto il campionato? Tutte le gare del cielo? Si dovrebbe fare tutto il campionato o se ne scarta una, ora si guarda, da decidere. Ma farai anche gare extra campionato? No, al programma per ora non c'è niente. Non c'è niente? No. Va bene, va bene. Grazie. Grazie a te. Arrivederci. Grazie a te.